Heineken è il produttore di birra più internazionale al mondo, il numero uno in Europa e il numero due a livello globale per ricavi. È presente in più di 70 paesi con 160 stabilimenti e 85.000 dipendenti. Produce e commercializza oltre 300 brand, da quelli internazionali a quelli legati al territorio, fino alle birre speciali e al sidro. Da più di 150 anni i nostri valori sono enjoyment, divertimento e gioia di vivere, rispetto verso gli individui, la società, il pianeta e passione per la qualità. In Italia Heineken produce birra dal 1974 ed è presente sul territorio con i quattro birrifici di Comun Nuovo, Assemini, Massafra e Pollain e con un network distributivo Partesa che opera nel settore beverage e possiede 47 centri logistici. In Italia il gruppo comprende anche di Bebit Import, una società attiva nell'importazione e nella distribuzione di birre speciali da tutto il mondo. Con più di 2.000 dipendenti, Heineken è oggi il primo produttore di birra del nostro paese, dove produce e commercializza oltre 6 milioni di ettolitri di birra, investendo in innovazione e sviluppo. L'innovazione è alla base della strategia di Heineken per la crescita. Continuiamo a lavorare per sorprendere i nostri consumatori, cercando di incontrare i loro nuovi gusti. Attraverso il piano Brewing a Better World, Heineken integra la sostenibilità al business, creando valore per l'azienda, la società e l'intero pianeta. Il 100% dell'energia elettrica che utilizziamo proviene da fonti rinnovabili e selezioniamo localmente fornitori che condividono la nostra idea di sostenibilità. Da 40 anni inoltre insegniamo agli italiani a bere in modo intelligente. Da 10 anni realizziamo campagna a favore del consumo responsabile. I principali marchi del gruppo in Italia sono Heineken, la famiglia Birra Moretti, Birra Messina, Drer e Icnusa.